Il Ponte Belvedere, o meglio il nuovo Ponte Belvedere, parlerà a Quilano, perché sarà il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Taddei e Todima a demolirlo e ricostruirlo. Un appalto integrato da 4,3 milioni di euro che mette la parola fine alle lungaggine e agli atti burocratici e dall'avvio al cantiere, di fatto che dovrebbe partire entro l'estate, a designare l'aggiudicazione dell'incarico, la commissione comunale che ha esaminato le cinque offerte pervenute, ritenendo quella della Taddei e Todima la migliore per qualità prezzo. Ieri pomeriggio l'apertura delle buste. Per quel che riguarda i tempi, in un mese ci sarà il progetto esecutivo che prenderà le mosse da quello definitivo adottato a marzo dalla Giunta. Qualche slittamento c'è stato, ma ora c'è fiducia di portare a breve e a compimento quest'opera tanto discussa e attesa. Noi ci teniamo molto a quest'opera perché è la prima opera grande di rottura rispetto a come era dov'era e che porta il fattore estetico nella ricostruzione. Non era semplice perché la sua riparazione non era prevista dal piano di ricostruzione della passata amministrazione, ma ce l'abbiamo messa tutta ed oggi viene decisa qual è la ditta che eseguirà i lavori. Auspichiamo che entro l'estate già si possa partire con la demolizione e dentro maggio la città possa riavere il nuovo ponte. C'è anche un aspetto legato al recupero della zona sotto il ponte che è una cosa alla quale tenete molto? Sì, non volevamo che il ponte Belvedere fosse un'opera spot, ma volevamo che si incardinasse a questo punto in tutto un'architettura urbana modificata ad hoc. Per questo abbiamo fatto il primo masterplan partecipato, quindi insieme all'Urban Center, che ringrazio, abbiamo chiesto ai nostri concittadini di esprimersi su come avrebbero voluto riqualificare quella zona. Grazie. Grazie.